Naturalmente la partecipazione della Russia al cosiddetto accordo sul grano, ovvero alla risoluzione delle questioni relative all'esportazione di grano dal territorio ucraino, influisce direttamente sugli interessi dei nostri produttori agricoli, nonché delle imprese che producono fertilizzanti. Permettetemi di ricordarvi a questo proposito che come avrete capito stiamo parlando del cosiddetto accordo sui cereali. Questo accordo è stato concluso esattamente un anno fa, il 22 luglio 2022. Quindi questo accordo, il cosiddetto accordo, è stato prorogato più di una volta, l'ultima volta nel maggio di quest'anno per un periodo fino al 17 luglio compreso. Abbiamo esteso questo accordo ancora e ancora e estendendolo abbiamo mostrato semplicemente miracoli di resistenza e pazienza, tolleranza, sperando che i nostri colleghi stranieri iniziassero finalmente a rispettare pienamente i parametri e le condizioni concordati e approvati. Tuttavia non è successo niente del genere. Nessuno avrebbe adempiuto ad alcun obbligo previsto dall'accordo, ma ha solo preteso costantemente qualcosa dalla Russia. Fare una cosa, poi un'altra, fornirne una, due, tre. Solo totale arroganza e sfacciataggine, promesse e chiacchiere vuote. E si sono solo compromessi con questo. Hanno minato la loro autorità, compresa la leadership del segretario delle Nazioni Unite, che in realtà ha agito come garante dell'accordo sul grano. Devo dire che credo che il personale delle Nazioni Unite abbia cercato sinceramente di mantenere tutte le promesse fatte dall'Occidente, ma non si è riuscito a ottenere nulla. Non hanno fatto praticamente nulla per far funzionare normalmente la transazione. Ma per interromperlo, i nostri cosiddetti partner in Occidente non hanno risparmiato sforzi, hanno fatto di tutto per farlo fallire. E oggi, come dice la nostra gente, stanno letteralmente mentendo al mondo intero, dicendo che la Russia è presumibilmente la causa del fallimento di questo accordo. accordo. Inoltre, quasi tutti i disastri della popolazione africana e di un certo numero di altri paesi sono attribuiti alla Russia, che un tempo lo stesso Occidente ha derubato, spinto nell'abisso delle guerre, della fame e della povertà, e ora continua a saccheggiare quegli stati come parte del suo sistema neocoloniale. Ha approfittato spudoratamente dell'accordo sul grano. Ha semplicemente distorto, completamente distorto, il significato di questi accordi e la loro essenza. Lasciate che ve lo riassuma. In realtà, è per questo che la Russia si è assunta alcuni obblighi per facilitarne l'attuazione. Ma questo accordo, tra virgolette, che è stato pubblicamente presentato in Occidente come manifestazione della loro cura a beneficio dei paesi più poveri del mondo, è stato infatti utilizzato per arricchire le grandi imprese americane ed europee che esportavano e rivendevano grano dall'Ucraina. Guardate, in quasi un anno, come parte di questo cosiddetto accordo, un totale di 32,8 milioni di tonnellate di merci è stato esportato dall'Ucraina, di cui oltre il 70% è andato esattamente ai paesi ricchi, poveri, compresi principalmente i paesi dell'Unione Europea, mentre la quota di stati come Etiopia, Sudan, Somalia, Afghanistan, Yemen, i paesi più poveri, rappresentava meno del 3% del volume totale, meno di un milione di tonnellate. Allo stesso tempo, nessuno dei termini di questo accordo riguardante il ritiro delle sanzioni delle esportazioni russe di grano e fertilizzanti verso i mercati mondiali, nessuno è stato rispettato. Inoltre, viene ostacolata anche la nostra donazione gratuita di fertilizzanti minerali ai paesi più poveri e bisognosi. Delle 262 mila tonnellate di prodotti bloccate nei porti europei, solo due lotti sono stati spediti, 20 mila tonnellate in Malawi e 34 mila tonnellate in Kenya. Il resto rimane nelle mani senza scrupoli degli europei e questo nonostante si tratti di un'azione puramente umanitaria, alla quale, in linea di principio, non dovrebbero essere applicate sanzioni. Aggiungo ancora una cosa. Alcuni paesi europei che affermano verbalmente che l'Ucraina dovrebbe avere l'opportunità di esportare prodotti agricoli, voglio sottolinearlo, loro stessi pensano di vietare l'importazione di grano ucraino nel loro territorio, parlando degli interessi dei loro produttori. Ripeto, rendendosi conto dell'importanza delle forniture globali di cibo e fertilizzanti, soprattutto ai paesi più poveri, la Russia ha esteso più volte questo accordo e gli Stati occidentali, con qualsiasi pretesto e senza alcun pretesto, si sono rifiutati di adempiere ai propri obblighi, inclusa la rimozione degli ostacoli alle nostre esportazioni agricole. Per i produttori agricoli russi, per le imprese che producono fertilizzanti, ciò ha comportato danni e perdite dirette. A causa di uno sconto del 30-40% sul nostro grano sui mercati mondiali, le perdite degli agricoltori russi ammontano, se convertite in dollari, a 1,2 miliardi di dollari. Inoltre, l'aumento del costo del noleggio di navi marittime per il trasporto di merci e del costo dei regolamenti finanziari internazionali e di altre operazioni ha portato a un dimezzamento della reddittività delle consegne. Anche i nostri produttori di fertilizzanti hanno affrontato un problema simile. Le loro perdite sono di circa 1,6 miliardi di dollari. Ad esempio, il costo dei pezzi di ricambio importati per macchinari e attrezzature in generale, per loro è aumentato del 40%. L'aumento dei costi per le transazioni finanziarie è di circa il 10%. Aggiungo qualche altra cifra per chiarezza. L'Ucraina, nell'ultimo anno agricolo, ha prodotto circa 55 milioni di tonnellate di grano. Le esportazioni sono state di 47 milioni di tonnellate, di cui grano 17 milioni. E la Russia ha raccolto 156 milioni di tonnellate di grano l'anno scorso e ha esportato 60 milioni di tonnellate, di cui 48 milioni di tonnellate erano grano. La quota della Russia nel mercato mondiale del grano è del 20%, mentre quella dell'Ucraina è inferiore al 5%. Queste cifre parlano da sole. È la Russia che dà un contributo colossale alla sicurezza alimentare globale e tutte le affermazioni secondo cui solo il grano ucraino nutre gli affamati di tutto il mondo sono speculazioni e bugie. Voglio assicurarvi che il nostro Paese è in grado di sostituire il grano ucraino sia su base commerciale che gratuita, soprattutto perché, come è stato riferito dal nostro Ministro, anche quest'anno ci aspettiamo un raccolto record. Tenendo conto di tutti i fattori che ho citato oggi, la continuazione dell'affare del grano nella forma in cui esisteva ha perso ogni significato. Ecco perché ci siamo opposti a un'ulteriore estensione di questo cosiddetto accordo. A partire dal 18 luglio la sua implementazione è stata esaurita. Vorrei sottolineare che non siamo contrari all'accordo in sé, soprattutto considerando la sua importanza per il mercato alimentare globale, per molti paesi del mondo. E naturalmente prenderemo in considerazione la possibilità di ritornarci, ma solo a una condizione. Se saranno pienamente presi in considerazione e soprattutto attuati, ovvero tutti i principi precedentemente concordati della partecipazione della Russia a questo accordo, saranno attuati senza eccezioni. Vi ricordo di cosa sto parlando. Il primo è il ritiro delle sanzioni sulle forniture di cereali e fertilizzanti russi ai mercati mondiali. In secondo luogo, tutti gli ostacoli devono essere rimossi per le banche e le istituzioni finanziarie russe che forniscono cibo e fertilizzanti, compreso il loro collegamento immediato al sistema di regolamento bancario internazionale SWIFT. Non abbiamo bisogno delle solite promesse su questo punto. Abbiamo bisogno del rispetto di queste condizioni. In terzo luogo, dovrebbero riprendere le consegne in Russia di pezzi di ricambio e componenti per macchine agricole e per l'industria dei fertilizzanti. Inoltre, tutti i problemi con il noleggio delle navi e l'assicurazione delle forniture alimentari di esportazione russe devono essere risolti. Deve essere fornita tutta la logistica delle forniture alimentari. Finalmente, devono essere previste condizioni senza ostacoli per espandere la fornitura di fertilizzanti russi, materie prime per la loro produzione, compreso il ripristino dei lavori dell'oleodotto dell'ammoniaca Togliatti Odessa, che è stato fatto saltare in aria e distrutto, chiaramente per ordine del regime di Kiev. E infatti questo sabotaggio non ha ricevuto alcuna valutazione dalla comunità internazionale, dall'ONU. Le attività russe legate al settore agricolo devono essere sbloccate. Non continuerò a elencare tutte le posizioni e le condizioni per la partecipazione del nostro paese a questo accordo sul grano. Sono in particolare specificate nel corrispondente memorandum Russia-ONU. Se ne può prendere visione. Ma la cosa principale è che i colleghi occidentali devono soddisfarle. L'unica cosa che voglio sottolineare ancora una volta è che inizialmente l'essenza, il significato dell'accordo sul grano, aveva un colossale significato umanitario. L'Occidente ha completamente evirato e distorto questa essenza. E invece di aiutare i paesi veramente bisognosi, l'Occidente ha usato l'accordo sul grano per ricatto politico e inoltre, come ho detto, ne ha fatto uno strumento per arricchire gli speculatori delle corporazioni transnazionali nel mercato globale del grano. Infine, le condizioni fondamentali affinché la Russia torni all'accordo sono il ripristino della sua originaria essenza umanitaria. Se tutte queste condizioni che abbiamo concordato in precedenza saranno soddisfatte, e non sono inventate adesso da me, queste condizioni, ma non appena saranno soddisfatte, torneremo immediatamente a questo accordo.